Un nuovo piccolo raggio di luce dal mondo dei farmaci nel contrasto al coronavirus. Una speranza che arriva dal passato. Si parla infatti del Plaquenil, farmaco noto, addirittura dagli anni 50, utilizzato per combattere la malaria. I ricercatori dell'Istituto San Raffaele di Milano stanno eseguendo studi che ripercorrono le sperimentazioni in laboratorio condotte negli Stati Uniti nel 2005 che diedero delle risultanze interessanti poiché il Plaquenil si era dimostrato efficace come antivirale nei confronti del virus SARS-CoV responsabile dell'epidemia della SARS nel 2003. Studi cui poi non fu dato seguito visto che quell'epidemia si è arrestata in tempi relativamente brevi e quel virus si era naturalmente estinto. Studi che ora sono ripresi poiché il virus che genera la malattia da Covid è un coronavirus parente di quello della SARS. Le sperimentazioni nel laboratorio hanno evidenziato che il Plaquenil somministrato prima di contrarre l'infezione o dopo averla contratta non sembra sortire buoni risultati. Le cose cambiano se la somministrazione viene fatta prima e dopo l'infezione. In quel caso il farmaco sembra esprimere il suo meglio e avere così il sopravvento sul coronavirus. Gli studi si trovano ancora in uno stadio iniziale. Intanto va chiarito il meccanismo tramite il quale il farmaco riesca a inibire la replicazione virale all'interno delle cellule infette. E soprattutto questi sono dei risultati da laboratorio. Il prossimo passaggio sarà la sperimentazione sull'uomo, testarne sul campo dunque l'efficacia e gli eventuali effetti collaterali. Se i test su pazienti dovessero dare conferma dei risultati da laboratorio allora si potrebbe immaginare una somministrazione del farmaco in via preventiva a modi profilassi e poi una eventuale successiva in caso di contagio da coronavirus. Ma per questo serviranno ulteriore tempo e come detto evidenze scientifiche sul campo. Nel frattempo è notizia della giornata di ieri che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera per la sperimentazione di tre farmaci. Uno di questi è riferito ad un farmaco divenuto familiare di questi tempi, il Tocilizumab, che come confermato anche dal direttore dell'unità di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, sta dando risultati confortanti tra i pazienti abruzzesi. Questo nuovo ulteriore studio però intende testare il Tocilizumab in via precoce sui pazienti che hanno contratto il Covid-19 e quindi verificare se una sua immediata somministrazione può ridurre il rischio che il degente, affetto da polmonite, debba fare ricorso a ventilazione assistita. Gli altri due studi riguardano la somministrazione endovenosa della Mapalumab e del Sarilumab, farmaci che, come il più noto Tocilizumab, agiscono in maniera diversa ma con uno scopo comune, quello di diminuire in maniera considerevole una delle complicanze più subdole della malattia da Covid-19, l'eccesso della risposta immunitaria che ha come conseguenza la portata abnorme del processo infiammatorio che si traduce in una precipitazione del quadro clinico del paziente.